Uno dei temi più dibattuti è quello relativo alla sostenibilità delle aziende che producono capsule di caffè. Siamo a Terni, siamo con il responsabile della The Coffee Way, Stefano Carlevaro. Grazie di essere con noi. Buonasera, ciao. Allora, come un'azienda come la vostra, emergente, che produce capsule di caffè, può essere sostenibile? O come può cercare di diventarlo? Sicuramente è uno dei temi più dibattuti e nella polisi aziendale più attenzionati. Casa madre, la holding di riferimento, Vita Group S.p.a. ha talmente a cuore tutto ciò che addirittura ha costruito impianti che addirittura producono 6 mega di energia. Questo è qualcosa di incredibile. Il pianeta ha bisogno di energia pulita e Vita Group, con i propri profitti, ha costruito impianti che la producono. Ma ti dirò di più, tutto questo porterà dei profitti e questi profitti verranno divisi per garantire un futuro alle persone che lavorano all'interno di questa azienda. Quindi intanto dare al pianeta energia green. Poi arriviamo a quello che è la produzione di The Coffee Way. Produciamo, sì, è vero, capsule, capsule per il nostro sistema proprietario e capsule anche compatibili. L'attenzione lì è ai massimi livelli. La documentazione, la nostra produzione è alimentata dal 100% di fonti di energia rinnovabili. Ogni scatola che esce, ogni capsula che esce ha proprio questo marchetto che certifica, che sostiene che produciamo il 100% di fonti di energia rinnovabili. Ma non ci fermiamo qui. La maggior parte dei nostri negozi che non possono avere un loro impianto sono alimentati da società elettriche che garantiscono e che certificano che erogano solo energia green. Quest'anno, ad esempio, ho qui un certificato che parla di 100% di energia verde solare. L'anno prossimo avremo magari un certificato che parla di energia eolica. Altra cosa che piace tantissimo, a giorni i nostri negozi avranno un prodotto in più, che va a chiudere un pochettino il cerchio, con cime naturale, fatto con scarti e fondi di caffè. Quindi va a chiudere un po' il cerchio, quindi un'operazione veramente circolare. Quindi un vero riutilizzo del sottoprodotto, diciamo uno scarto che viene riutilizzato. Benissimo, uno scarto che viene riutilizzato, uno utilizza il sottoprodotto. Questo che cosa fa? Quindi torna alla natura. Quindi il caffè è usato, gli scarti, i fondi tornano alla natura. Ma so che c'è anche un altro progetto che riguarda comunque la sostenibilità, in particolare la compensazione. Sono veramente orgoglioso di questo, perché quest'anno abbiamo piantato degli alberi in paesi svantaggiati, alberi anche in via di estinzione, che compensano 5,80 tonnellate di CO2. Quindi diciamo che ai primi posti abbiamo a qua la sostenibilità. Ma quindi in realtà può coesistere la sostenibilità con il profitto? Guarda Alessandro, questo è un tema di cui si parla veramente tanto. Secondo me assolutamente sì. A primo occhio quando vai a leggere i dati, quelli contabili, sembrerebbe di no, sembrerebbe che i costi sono veramente alle stelle. Però la verità è che uno dà una soddisfazione a noi che operiamo sul mercato, a noi che lavoriamo, dà una soddisfazione più importante. E quindi ci fa lavorare meglio. E poi ritengo che anche ci sia una sensibilità, oramai un'attenzione molto alta. E questo penso che alla fine premi anche con la nostra clientela. Ci dà l'opportunità di comunicare anche meglio alla nostra clientela l'attenzione che abbiamo verso il tema della sostenibilità. E questo sono convinto che non alla lunga, ma anche alla breve, premi. Dicevamo fuori onda di quanto in realtà sia difficile riuscire a capire poi se un'azienda è sostenibile o meno. Perché tanti prodotti che sembrano essere compostabili o sostenibili, poi in realtà non lo sono fino in fondo. Ma guarda, io rimango a volte colpito, rimasi colpito da un prodotto di carta, da alcuni prodotti di carta, dove poi c'è il simbolo della tartarughina in sofferenza, no? Che per legge va messo. Quindi mi viene da chiedere, non è sostenibile? È sostenibile. E il dubbio viene anche a me. Come tanti altri prodotti che hanno bisogno, magari che nascono veramente sostenibili, ma hanno bisogno magari di un trasporto sul nave o su gomma di giorni, no? E bisogna stare anche attenti perché a volte è più sostenibile un qualcosa che a primo sguardo non lo è, piuttosto che quello che sembra avere tutte le caratteristiche, no? Ma magari viene dalla parte opposta del mondo. Ma magari viene dalla parte opposta del mondo o magari ha un aspetto che ci ricorda la sostenibilità, un colore che ci ricorda il riciclo, ma poi ci sono questi simboli, la tartarughina in sofferenza, eccetera, che vanno in realtà a certificare altro. Quindi se vedete la tartarughina in sofferenza, state attenti perché il prodotto potrebbe non essere veramente sostenibile. Grazie signor Carlevaro. Grazie a te. A riederci.